Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotessi. Ho creato una nuova poesia dal titolo Azione Missionaria. Spero dopo la spedirete ai vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Siamo dei cristiani veri e propri e che nell'azione missionaria mostriamo la nostra azione caritatevole, vera e pratica. Quindi la carità sta tutta la base della forza missionaria cristiana e si spinge a dare una forte presenza, un forte aiuto, una giovialità ricca di gioia, una solenne speranza a chi ha bisogno di qualcosa di concreto. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Azione Missionaria. Siamo cristiani autentici che nell'azione missionaria riveliamo gli ideali solidi per una carità vera e pratica. Siamo cristiani fervidi, densi di forte presenza e negli aiuti impavidi doniamo tanta solenne speranza. Siamo cristiani seri, ricchi di valori e amore. Siamo gli attori e autori della sacrosanta fede. Siamo cristiani innamorati della croce del Signore e ne saremo sempre testimoni ricchi di immensa speranza e lode. Grazie, spero la condividerete a tutti su Whatsapp. Arrivederci